ragazzi mi raccomando l'ho detto oggi in live posso capire che rimango molto sui coglioni a qualche d'uno ma non capisco perché su quattro utenti se ne debba iscrivere solamente uno e questa è la media è uno e mezzo diciamo la verità su quattro uno mi ha detto gli altri tre si iscrivono da altre mani questo quattro milioni di video a questo è un canale da ventimila iscritti perché ne devo avere settemila quattro sette cinque quanti sono ci vogliamo iscrivere o vi sto sui coglioni fate come vi pare tanto se devi guardare i video ti puoi iscrivere basta tu faccia così con il ditino e attivi la campanella ragazzi la campanella non funziona in questi giorni non lo so cosa sta succedendo anche oggi ho fatto una live improvvisata giuse ma non ho visto la campanella non mi ha suonato non lo so personalizzate la con vibrazioni suoni è una cosa che ho notato che su youtube succede ogni tre o quattro mesi questa roba qua che non funzionano gli avvisi la campanellina oggi oggi lo sentite una bellissima stanotte dormino un po' quindi volevo passare un altro pochino di tempo con voi cinque sei sette minuti belli che so non sentite una me l'hanno detta non ce ne temo lo stadio non lo fa né zang né nuovo proprietario lo fa l'inter ma va davvero grande dio buono davvero lo fa l'inter e chi è l'azio e chi è l'azionista di riferimento e zang lo fa l'inter garantisce l'inter e l'azionista di riferimento gli è dell'inter e zang scusate se cambia proprietà ci sarà un altro azionista di riferimento che ha l'inter che è il suo l'inter no l'ho detto ragazzi mettiamola un po' più il sorriso facciamo un po' scivolare facciamo filtro garantisce l'inter e chi è l'azionista di riferimento dell'inter non è zang perché sono emersi i problemi nel dibattito tra il comune di milano e l'inter perché l'inter non aveva le garanzie con l'azionista di riferimento no va bene oggi in live parlavo di eventuali personalità forti a ornatovic sanchez skies austria nemmeno a farlo apposta un'ora fa dice arnautovic testuali parole non mi piace stare in panchina quindi occhio in zaghi ne parlavo oggi sky sport andate a leggere c'ho l'intervista da arnautovic sky sport austria dove dice a me non piace stare in panchina non mi rompete i coglioni io oggi te lo avevo detto occhio perché arnautovic in panchina non ci sta vedi le dichiarazioni di po di po in pochi minuti fa sanchez è uguale e comincia a rompere i coglioni quindi ci sarà anche una gestione di certe personalità non semplice di zaghi sicuramente ha tante doti ma la dote dove non brillano è certo quella della gestione di certe personalità di calciatori attenzione perché potrebbe reale problemi degli spogliatori per deve essere molto più bravo in zaghi rispetto all'anno scorso a gestire questi calciatori qua si legge nell'ultima ora anche questo scelvi sembra che sembra in zaghi voglia proporre a scelvi titolare e perché secondo me perché a scelvi si è sempre messo nel taschino girù con a scelvi non si è mai girato sì vero parliamo di un calciatore di 35 36 anni e è fermo da un po' di tempo e ancora non può avere ritmo partita scelvi è sempre stato fermo in questi giorni però se zaghi lo fa giocare vuol dire lo tiene che lo ritiene pronto il motivo secondo me che con a scelvi puoi tenere il baricentro un po' più altro perché rispetto a devrai è un po' più veloce nello scappare all'indietro a livello di posizionamento è bravo come devrai ma a scelvi piace molto di più il contatto fisico con l'attaccante perché devrai è un difensore che a me piace tantissimo ma fateci caso fa quasi sempre gli intervetti degli interventi di fioretto mentre a scelvi legna mentre devrai invece entra sempre di fioretto il fisico lo usa pochissimo mentre a scelvi ti spostati dalle spallate c'è il capito petto petto quindi è per questo secondo me in zaghi vuole far giocare a scelvi oltre il discorso di girù con a scelvi quindi puoi tenere anche il baricentro un po' più alto ma per tenere il baricentro un po' più alto per esempio nel secondo tempo puoi utilizzare come braccetto carlos augusto a sinistra e magari tenere di marco più più avanzato oppure puoi mettere il bracetto un altro e carlos augusto è un attacca che è proprio diciamo è un esterno che ha facilità nel saltare l'uomo corsa tecnica assist quindi carlos augusto ragazzi è un altro calciatore per cui io stravedo lo avrete capito penso giuse ma però talmente forte e si di si ti saluto e si di si ho cancellato il tuo messaggio ma non volevo cancellarlo altrimenti sarei stato zitto e si di si come gruppo come cantanti come il grandissimo gruppo di cui anch'io diciamo sono un grandissimo fan non è il discorso che carlos augusto è talmente forte che la nazionale brasiliana l'ha mai amata perché se no ti dico tiago motta era uno scarpone eppure il brasile non l'ha mai calcolato tiago molto ha 20 anni al titolare non barcellona stellare di cosa ragioniamo non vuol dire nulla lo stesso mancini nazionale ha sempre fatto ridere quindi ci sono dei calciatori e con la nazionale non hanno feeling ma a maggior ragione i brasiliani dove hanno tantissima scelta in determinati luoghi ti ripeto ti posso fare l'esempio di tiago motta che non veniva calcolato in nazionale ma attenzione perché a carlos augusto mancini eh perché mi sembra che abbia anche il passaporto italiano se non sbaglio mancini fece di tutto per portarlo in nazionale italiana quindi attenzione domani finalmente si avvicina garantisce l'inter per lo stadio e chi è l'azionista di riferimento dell'inter e chi è che garantisce per l'inter di chi è l'inter quindi scusate l'attenzione ragazzi ora prenderò due goccioline di valeriana e andrò a letto perché sennò io andato stanotte dormirò dalle due alle tre ore poi un fratello milanista lo sapete soliti discorsi ragazzi mi raccomando se vi sto sui coglioni ditemelo questo canale non è giusto che abbia settemila quattro settemila cinquecento iscritti i numeri dicono certifiano e questo è un canale da 20.000 io non ti dico di arrivare a 20.000 vogliamo arrivare a meno 10.000 da qui a fine anno mi date una mano sì o no decidete voi ciao inter grazie